Ieri pomeriggio a Comiso, personale nel servizio del locale commissariato ha fermato per controllo un'autovettura con a bordo due giovani. Durante la perquisizione del mezzo, gli agenti, accanto al sedile posteriore, hanno rinvenuto, a volta ad una busta di colore nero, una mazza da baseball in alluminio dalla lunghezza di 70 centimetri. Il conducente dell'auto, un giovane ventenne, non ha saputo giustificare il possesso di un oggetto atto ad offendere e il cui porto è consentito solo per le finalità oggettive, nel caso specifico ovviamente finalità sportive. E siccome il giovane è stato accertato non è giocatore di baseball, né tantomeno stava recandosi presso un campo da gioco, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'autovettura, inoltre, essendo priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata. Sempre a Comiso, durante questi servizi di controllo sull'arteria, la polizia è fermata anche un'auto condotta da una donna rumena. Anche in questo caso l'auto era sprovvista di assicurazione e anzi era esposto in bella vista un contrassegno falso, la donna è stata pertanto denunciata per truffa e danni dello Stato e il mezzo naturalmente è stato sequestrato.